buonasera buonasera a tutti eccoci qui per un'altra serata stasera parliamo di un tema molto molto interessante un po forse meno pratico dei soliti argomenti anche se molto molto utile da dove partire allora innanzitutto il titolo è l'influenza della mente sul benessere sulla malattia è chiaro che l'influenza della mente è fondamentale per quanto riguarda sia il mantenimento del nostro stato di salute in positivo che in negativo ha una importanza notevole anzi oserei dire fondamentale purtroppo purtroppo diciamo veniamo su con tantissime credenze limitanti e tanti condizionamenti i nostri genitori chiaramente fanno sempre fanno il meglio che possono a loro volta hanno avuto un'educazione avevano avuto un'educazione di un certo tipo quindi hanno fatto del loro meglio per trasmetterla a noi purtroppo però hanno fatto involontariamente anche diversi danni tra le varie cose buone che hanno fatto quindi per esempio cosa fai non sei abbastanza intelligente sei stupido ehm un bambino un bambino un maschietto non piange piuttosto che eh tutte quelle situazioni in cui eh castranti in cui ci eh si ritrova poi da adulti a dover fare i conti necessariamente ehm questo questa nostra società poi occidentale è particolarmente eh razionale eh negli ultimi duecento anni si è spinto molto sul positivismo quindi sul considerare valido e eh utile soltanto ciò che è razionale quindi derivante dall'emisfero sinistro tutto il resto che era legato alla nostra parte intuitiva alla nostra parte creativa alla nostra parte vera autentica la nostra se vogliamo la nostra scintilla divina perché è proprio lì nella nella parte creativa che risiede viene pesantemente castrata quando siamo piccoli eh voi sapete che i bambini eh sono connessi da piccoli sono nella loro massima espressione eh quindi vivono completamente il presente non sono giudicanti eh sono molto intuitivi eh quindi la loro quello che vogliono fare lo lo fanno eh sono con sono nel flusso oseremmo dire invece poi crescendo chiaramente con l'educazione eh poi con la scuola negli ultimi anni ancora di più eh veniamo in un certo senso rovinati perché vi faccio questa premessa perché tutte queste eh convinzioni limitanti eh con cui cresciamo che si eh si diventano poi nel nostro inconscio nel nostro subconscio fanno sì che eh ci facilitano in un certo senso eh il no stare bene o comunque la malattia Edward Bach cosa diceva che eh quando la eh diciamo la distanza tra essenza e personalità si fa troppo accentuata si genera lo squilibrio o in alcuni casi la malattia cosa significa eh che quando noi veniamo su facendo un lavoro per esempio che non ci piace perché perché eh condizionati dei genitori dobbiamo sostituirli nella loro attività perché eh dobbiamo scegliere un lavoro che eh remunerato a sufficienza perché ci che ci dia da vivere in maniera agiata e quindi ci viene in un certo senso impedito di fare chiaramente non è per tutti così e sto parlando in generale eh ci viene impedito di fare quello che desideriamo quello che sentiamo dentro ehm o alcune volte non lo sentiamo neppure inizialmente perché siamo talmente condizionati abbiamo delle credenze talmente limitanti che o eh non sentiamo eh quello che veramente desideriamo non siamo più abituati ad ascoltarci perché troppo tesi a eh accontentare gli altri accontentare come dicevo i genitori poi sarà il partner poi saranno i figli e quindi non ci ascoltiamo più e scegliamo una vita che non ci rappresenta quindi cosa significa quando Edward Bach per chi non lo conosce è colui che ha ideato i 38 rimedi floreali dei fiori di Bach ehm un visionario un sciamano un alchimista eh lui dice più noi ci allontaniamo da quello che siamo effettivamente e più si manifesta lo squilibrio quindi ehm ecco perché è importante eh lavorare su di noi prima di tutto per imparare a conoscerci e da un lavoro che eh dura tutta una vita e poi eh quando anche ci ammaliamo o comunque quando si crea uno squilibrio eh lavorare sempre su di noi per ehm toglierci prima di tutto le le convinzioni limitanti e poi nell'eventualità della presenza di uno squilibrio o malattia eh poter poi guarire scusate un secondo che faccio entrare ecco ehm quindi questi questi pensieri limitanti queste credenze che noi eh acquisiamo ehm sono ci rendono la vita molto difficile e fanno sì che ehm stavo cercando una frase ehm fanno sì che noi non ci esprimiamo per quello che è la nostra natura più profonda quando eh appunto eh si manifesta questa discrepanza tra la nostra essenza e la nostra personalità procedendo nella stessa direzione e non ascoltandoci eh iniziamo a non stare bene perché il corpo è il primo messaggero è ehm quella parte che subito non mente mai mentre avrete sentito spesso questa frase la mente mente eh il corpo no quindi cominciamo a sentire piccoli disagi inizialmente piccoli poi via via andando avanti e non modificando nulla il disagio diventa eh sempre più importante fino a diventare anche una malattia eh invalidante quale malattia autoimmune cancro eccetera ecco quindi che ehm noi non siamo vittime ehm diciamo senza speranza di quello che ci accade ma tanto possiamo fare anzi moltissimo possiamo fare per uscire da questa situazione anche qui ehm ci viene trasmesso o c'è stato trasmesso che eh non possiamo fare nulla per esempio in questo contesto in particolare di fronte a una malattia che può essere più o meno grave eh siamo stati sfortunati quindi non possiamo far altro che eh sentirci vittime accettarla in maniera passiva senza renderci protagonisti di un vero e proprio cambiamento che possa far sì che superiamo questo momento lo stesso Bruce Lipton che è l'ideatore dell'epigenetica ehm già negli anni ottanta aveva intuito che noi non siamo vittime tra virgolette del nostro DNA cioè non è che nasciamo così e se nel nostro DNA è indicato che avremo questa malattia piuttosto che questa eh è una cosa genetica assolutamente è l'ambiente quindi l'ambiente in cui cresciamo intendendo per ambiente ambiente familiare l'ambiente il paese in cui viviamo le situazioni che viviamo che determinano il nostro benessere il nostro malessere quindi noi abbiamo la possibilità di modificare profondamente eh la nostra vita di guarire anche da malattie invalidanti o molto gravi solo se ci rendiamo protagonisti e iniziamo innanzitutto a conoscerci e a lavorare su noi stessi per capire cosa veramente vogliamo in che direzione vogliamo andare eh qual è la passione della nostra vita cosa dobbiamo cambiare eh per essere felici cioè per fare una vita che che sia pagante che ci soddisfi sembra banale ma sono molte le persone che al giorno d'oggi non fanno il lavoro che gli piace perché devono portare a casa lo stipendio perché hanno il mutuo perché sono sposati e non possono ormai più cambiare per insomma si fanno tante azioni per accontentare gli altri in realtà è una cosa che dico spesso e che eh non viene molto riconosciuta da una parte prettamente cattolica diciamo così di formazione prettamente cattolica alla fine noi siamo qui per noi stessi siamo qui per realizzare noi stessi poi nel corso della nostra vita abbiamo persone che ci vogliono bene che amiamo che ci accompagnano per un tratto ma fondamentalmente siamo qui per noi quindi il rinunciare alla propria felicità alla propria realizzazione ai propri desideri per accontentare gli altri o per non deludere gli altri e mi dispiace dirlo anzi no non mi dispiace ma la matrice nostra cattolica ha agito molto sul senso di colpa sul sentirsi sbagliati sul sentirsi egoisti se facciamo una scelta che esula dal desiderio eh non so della della mamma piuttosto che dei genitori che volevano per noi una certa cosa quindi noi non ci ci sentiamo in colpa se dovessimo deluderli e quindi scegliamo un qualcosa che ci rende infelice perché poi siamo solo e soltanto noi a pagare il prezzo ecco questa era un po' la premessa che volevo dare perché ehm stasera quello su cui volevamo io e Carlo volevamo porre l'attenzione è che anche di fronte a un a un malessere una malattia eh ma anche in positivo noi siamo pienamente in grado e eh abbiamo tantissime possibilità di cambiare queste credenze limitanti molte delle quali poi ce le portiamo nell'inconscio eh quindi eh tante volte non siamo nemmeno consapevoli di averle perché eh sono talmente sepolte dentro di noi se da piccoli i nostri genitori ci dicevano sempre eh non sei abbastanza intelligente sei stupido non sai fare niente eh o tutte queste cose chiaramente eh queste ripetizioni dette a un bambino una due tre quattro dieci volte si sedimentano nell'inconscio quindi noi verremmo su con la convinzione che effettivamente con un'autostima che è bassissima cioè non crederemo nelle nostre capacità nelle nostre possibilità e ci autosaboteremo quindi questa è la cosa abbastanza complessa su cui dobbiamo lavorare e ci sono dei modi per lavorare sull'inconscio e per togliere queste credenze limitanti e autosabotanti perché è chiaro non stiamo dicendo che una cosa così semplice è l'acqua di rose eh bisogna lavorarci però abbiamo questo potere perché in noi c'è questa scintilla divina che è la parte creativa che abbiamo e quindi possiamo fare tantissimo per cambiare un epilogo anche non bello di un qualcosa che ci viene dalla medicina allopatica e che ci dice ormai questa malattia ce l'hai eh o te la tieni tutta la vita o altre volte anche l'epilogo è quello che potrebbe essere la morte quindi mh è chiaro che in quel momento lì anziché diventare vittime sentirci vittime come come è diciamo naturale per la formazione che abbiamo avuto quindi dire e adesso ho stato sfortunato o sfortunata e adesso mi tengo la malattia devo sempre andare da medici eccetera se invece noi iniziamo a cambiare ma chiaramente cambiare è molto difficile ripeto non sto dicendo che sia una passeggiata però se veramente vogliamo realizzare noi stessi dobbiamo di fronte a una malattia che diciamo è sempre un messaggio come abbiamo detto in altre in altre situazioni la malattia in alcuni casi anche se è difficile da ammettere per la nostra formazione è una benattia cioè viene per dirci guarda che lì stai facendo qualcosa che non ti è funzionale che non ti fa bene modifica qualcosa lì quando capitano queste cose noi abbiamo la possibilità veramente di cambiare completamente la nostra vita è un passo complesso è un passo difficile è sicuramente un qualcosa che mette tutto in discussione ma è anche una splendida opportunità perché vederla in questa chiave sembra difficile ma è veramente quello che fa la differenza perché noi possiamo se vogliamo cambiare come diceva bruce lipton nell'epigenetica anche le nostre convinzioni più limitanti eh chiaramente quando noi abbiamo adesso addentro queste convinzioni limitanti e magari non sappiamo di averle come facciamo per togliercele ehm perché anche c'è un po' la bufa la new age no del pensiero positivo cioè il pensiero positivo ehm se noi lo pronunciamo tutte le mattine eh davanti allo specchio duecento volte sto bene la vita è bella e tutto quanto volete però dentro di noi non siamo convinti la nostra parte inconscia non è convinta di questa di questa cosa e quindi la ripete semplicemente a pappagallo non andiamo a cambiare assolutamente nulla cambiamo qualcosa quando nella nostra eh nella nostra me nella nostra parte subconscia c'è questa convinzione limitante per scardinare questa convinzione andiamo passiamo all'azione facciamo qualcosa in cui riusciamo bene in cui il nostro talento sarebbe poi la realizzazione di quello che siamo quello che la missione che veniamo a compiere su questa terra che non è nemmeno facile da scoprire eh perché c'è chi ci lavora anni chi la scopre tardi però ecco se noi cerchiamo prima o poi abbiamo la possibilità di trovarla quindi anche quando eh quando noi realizziamo il nostro talento e quindi facciamo bene una cosa andiamo a riscrivere la nostra eh convinzione inconscia quando la mamma ci diceva che non avremmo mai combinato nulla di buono che non eravamo abbastanza bravi e abbastanza intelligenti allora lì passando all'azione e passatemi il termine sovrascrivendo quella convinzione limitante sentendoci effettivamente bravi e capaci perché in quella cosa riusciamo bene eccelliamo andiamo a riscrivere quella convinzione quindi ehm questo per dire che veramente possiamo fare la differenza nella nostra eh vita perché ehm lavorando su di noi possiamo andare a togliere tutte quelle eh considerazioni quelle convinzioni quei pensieri che ci sono stati trasmessi ma che se pensate quotidianamente ci vengono trasmessi anche dalla società e anche per quello continuamente che non è una cosa facile perché oltre che dai genitori è una società questa depotenziante dove vieni giudicato continuamente da tutti e il giudizio ha un peso su di noi eh dove se non ti uniformi se viene considerato quello fuori dal dal passatemi il termine il gregge eh non per non tutti riescono sostenere questa cosa alcuni per eh diciamo per convenzione per paure per si adeguano ma non sono convinti eh tutti i giorni veniamo smorzati eh non so se voi pensate la maggior parte molte persone che abbiamo attorno ripeto non per colpa loro ma per eh educazione se voi provate a dirgli ha saputo questo progetto mi piacerebbe mettere in campo questa cosa nove per otto persone su dieci vi diranno non brava brava dai bravo fallo la maggior parte delle persone ti dirà ma dove vuoi andare e a questa età e se è una cosa folle ma sta vola basso e sono cose un po' sei cresciuto ormai cos'hai ancora queste idee da ragazzino insomma effettivamente noi viviamo in una società che tutti i giorni ci depotenzia e quindi dobbiamo continuamente lavorare su di noi per incrementare aumentare la nostra energia vitale la nostra positività e il nostro eh la nostra iniziativa la nostra creatività e quello veramente però è un eh è un lavoro da fare per stare veramente bene stare in salute oltre che eh realizzare quella che è la nostra missione. Carlo volevi dire qualcosa? Beh sì certo volevo dire anche io qualcosa. Quando vuoi intervenire eh dimmelo eh sì è fondamentale comunque beh è fatto un'esposizione molto chiara e precisa eh quello che volevo dire eh in più eh è che in effetti ci troviamo di fronte eh a difficoltà esterne ed interne eh da parte verso eh di noi stessi. esterne perché perché il mondo che si sta sviluppando adesso è un mondo sempre più artificiale sempre più manipolatorio che tende comunque che tende comunque eh a controllare le persone attraverso le paure e le paure logicamente fanno restare le persone bloccate ma questo è tutto un percorso che è stato fatto in tanti anni da quando eh già da Cartesio Newton il pensiero eh razionale diciamo logico eh che ha schiacciato la parte intuitiva della persona che è una parte molto molto importante e quindi viviamo in un mondo dove la logica e la razionalità ha preso il sopravvento assoluto ci sta ci vuole ma deve avere chiaramente il suo equilibrio eh la parte intuitiva è quella che eh adesso è schiacciata infatti Einstein diceva a che la mente è razionale dovrebbe essere il servo o il servo che obbedisce diciamo il servo fedele eh invece ha preso questo sopravvento sulla parte intuitiva e quindi schiacciandola completamente questo non va tanto bene quindi siamo passati a una società eccessivamente razionale dove la tecnica eh la scienza manipolata poi chiaramente dai grossi colossi che sono sul mercato che la gestiscono come vogliono abbiamo visto in questi ultimi anni come è andata e e quindi si tende eccessivamente a razionalizzare un po' tutto quando noi invece siamo molto di più che mente è razionale e basta perché sappiamo bene che la mente è razionale incida solamente per il cinque per cento di quello che pensiamo di quello che facciamo noi siamo molto molto di più eh come esseri come esseri umani e quindi ci troviamo di fronte a un mondo che eh che si che vogliono cambiare infatti un'ultima eh intervista diciamo a Giorgio Agamben filosofo di pochi giorni fa dice perché si vuole cambiare l'essere umano quindi siamo di fronte a questa manipolazione eh 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 eccezionale quindi queste sono difficoltà ulteriori rispetto il mondo esterno eh rispetto anche le cose che diceva Melissa eh di sentirsi fuori dal gregge infatti cosa stanno fatti cosa hanno fatto in questi ultimi anni mettere eh quella ignoranza che non accettava determinate cose contro una maggioranza che riuscivano a manipolare bene e quindi logicamente eh questo crea più difficoltà difficoltà esterne diciamo difficoltà interna sono determinate dalla dalla paura del cambiamento il cambiamento per l'essere umano è uno degli strumenti più potenti che possa avere però chiaramente questo cambiamento è è ridotto ed è bloccato dalle paure quindi una persona impaurita resterà bloccata e retita su quella posizione difficilmente riuscirà comunque eh a muoversi dalla posizione in cui è e quindi e quindi e fare un percorso di conoscenza e di consapevolezza perché poi fondamentalmente noi siamo su questa terra per fare un percorso eh e già il fatto di essere coscienti di questo è già un buon passo la maggior parte di persone non è cosciente di questo pensa che eh si va a lavorare si mangia si va a svagare si lavora chiaramente si va a svagare quando eh quando si riesce questo è il circuito in cui resta bloccata molta gente perché il discorso che eh è la differenza diciamo che c'è tra il piacere e la felicità in una società in una società dove tutto mercifica è mercificato logicamente si scambia per cosa bella piacevole e per felicità l'acquisto di beni materiali ma eh e spesso molta gente scambia questo scambia bella macchina sono felice per comparto la macchina quella è una quello è un piacere che ci si toglie ma i piaceri nel giuro di poco tempo svaniscono perché l'anno dopo non ci pensa neanche più la felicità è qualcosa eh superiore e la ricerca della felicità non ha nulla che a che fare con la ricerca del piacere eh la felicità al contrario si nutre di essenzialità la felicità non ha bisogno di oggetti ma i bensì di consapevolezza e quindi il discorso della consapevolezza è un concetto importante che riprenderemo più volte questa sera perché eh è solo la consapevolezza che ci può essere pienamente nel nostro sé il resto è manipolazione dall'esterno eh questo è uno degli aspetti importanti eh già Carlo Einstein disse un'altra frase molto bella eh tutto è energia e questo è tutto quello che esiste sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà non c'è altra via questa non è filosofia questa è fisica questa è fisica ma infatti e questi sono tutti i concetti della fisica quantistica che chiaramente parla di energia qual è la grossa differenza tra la scienza classica che come diceva Emilio del giudice scomparso un paio di anni fa fisico quantistico e eh e la fisica quantistica eh per la scienza classica nel vuoto non c'è nulla non c'è niente per la fisica quantistica nel vuoto si trasmettono le energie perché tutto è energia qualunque cosa vibra qualunque cosa ha un livello di energia infatti comunque abbiamo ottenuto per due volte perché è stato richiesto dei seminari di sull'energia vitale degli alimenti con misurare l'energia vitale degli alimenti quindi tutto quello che noi abbiamo un'energia vitale che sono 6700-6800 Armstrong tutto quello i cibi che mangiamo chi hanno un'energia vitale più bassa ci abbassano la vitalità quando mangiamo alimenti con energia vitale più alta ce l'alzano perché tutto è energia tutto energia e le energie si trasmettono nel vuoto ma anche le informazioni perché infatti come molti animali piccolini sanno già cosa devono fare mica la mamma insegna tutto non è che vanno a scuola perché sono trasmessi attraverso i campi morfogenetici però non voglio uscire fuori troppo al seminato però per dire che esistono questi meccanismi esistono questi concetti ma come lo stesso Jung cosa parla di inconscio collettivo per esempio noi quando nasciamo attingiamo già in partenza di un inconscio collettivo di quello che l'umanità ha incamerato nei secoli negli anni precedenti comunque infatti quando noi stiamo bene quando noi facciamo quello che ci piace quello che ci realizza tutte le nostre cellule sono in armonia e orientate nella direzione del nostro benessere quindi è il nostro corpo collabora e produce tutto quello che è necessario per stare bene perché stiamo bene facciamo quello che ci piace e tutto è sintonizzato perfettamente infatti c'è un enorme potere che è in sito nelle nostre intenzioni e se lo vogliamo possiamo influenzare tantissimo il nostro benessere psicofisico e quindi anche i processi cellulari e genetici e questo appunto lo dice più volte nel suo libro dico Bruce Lipton con l'epigenetica perché è stato lui il primo che ha sottolineato questa cosa appunto che abbiamo un enorme potere nella nostra vita abbiamo il potere di guarire abbiamo il potere di cambiare notevolmente le nostre credenze limitanti e non siamo vittime assolutamente di nulla non dobbiamo stare ad aspettare quello che ci dicono eh passivamente i medici o comunque qualsiasi altra figura perché in ogni situazione che si presenta a livello di salute abbiamo il potere di cambiare profondamente le cose naturalmente come diceva Carlo bisogna prendere consapevolezza di questa cosa bisogna conoscere un po' determinati meccanismi ma se noi andiamo veramente a vedere che anche solo il nostro umore quanto è in grado di influenzare il nostro corpo ehm lo abbiamo provato tutti che quando siamo tristi un po' depressi abbiamo un umore pessimo eccetera la vita ci rimanda di conseguenza delle situazioni spiacevoli tristi negative al contrario quando abbiamo una vibrazione più alta siamo felici siamo allegri siamo positivi ci arriva ci arrivano cose belle come se eh come dicono alcune volte il potere della gratitudine attraesse altra altre cose positive questo è molto vero perché alla fine tutto è vibrazione tutto è energia se voi pensate che ehm anche il nostro corpo fisico che noi percepiamo come di carne materiale non è altro che energia condensata quindi in maniera più ehm più densa tutto è energia tutto quello che ci circonda è energia quindi ci sono parti cose che noi non vediamo ma che hanno un'influenza incredibile sui nostri corpi sottili perché ricordiamoci sempre che noi non siamo solo questo corpo materiale ma abbiamo altri corpi sottili che entrano in gioco e che hanno veramente pur non vedendoli pur ci sono e quindi hanno un'importanza fondamentale nella nostra eh nella nostra vita e sono siamo in grado di creare veramente se vogliamo un la vita che desideriamo quindi ehm ripeto sembrano cose scontate eh per alcuni però eh non lo sono nella società attuale nella maggior parte delle situazioni chiaramente con le persone che partecipano credo che queste cose ne abbiano già eh sperimentate un po' masticate e le abbiano fatte loro però nella maggior parte dei casi ehm si tende a sentirsi vittime a sentirsi passivi a dire vabbè sono stato sfortunato e eh e lì veramente vuol dire ridurre l'uomo a un insieme di organi mentre noi non siamo semplicemente una macchina biologica ma siamo veramente una scintilla del 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 divino per chiunque anche chi non crede abbiamo una parte che è quella creativa io dico sempre anche chi non crede in una Dio in una divinità superiore basta che guardi le opere create dall'uomo alcuni capolavori e veramente lì non puoi dire che non esiste la scintilla divina poi esiste anche il suo posto per carità però adesso stiamo eh parlando proprio di quanto possiamo fare per ehm per diventare protagonisti e per cambiare eh delle situazioni in cui magari tendono a spegnerci o a farci sentire completamente vittime eh abbiamo le possibilità veramente di cambiare completamente chiaramente come diceva Carlo il cambiamento è un passaggio abbastanza ostico per l'uomo perché tutti tendiamo a sederci un po' e a stare eh nella cosiddetta zona comfort quella zona comfort alcune volte ci fa male ed è molto negativa per noi ma finché non ci danno quel sonoro calcio nel sedere alcune volte non ci muoviamo ma la questione comunque eh se posso dire due parole eh che la fisica quantistica in effetti sta dimostrando delle cose molto molto interessanti per esempio invito a entrare su internet e vedere l'esperimento della doppia fenditura dove dimostra che è l'osservatore che porta diciamo l'esperimento eh eh condiziona l'esperimento infatti si parla di onde e particelle se andate a vederlo eh vi renderete conto vi renderete conto di come l'osservatore determina l'esperimento poi per una buona parte infatti perché noi ed è tutta una questione di energie e poi fondamentalmente eh la questione è che noi nella vita ci troviamo di fronte a a diverse opportunità diverse possibilità dove concentriamo la nostra attenzione dove focalizziamo la nostra attenzione c'è il collasso d'onda e quindi si verifica quella quella quell'evento lì non è così semplice sicuramente perché presuppone una serie di convinzioni interne e tutto il resto però siamo noi che determiniamo lo scenario della nostra vita attraverso i nostri programmi mentali quindi questo vuol dire assumersi la responsabilità di quello che ci accade di quello che è la nostra vita perché nulla accade a caso assolutamente no non esiste la fortuna e la sfortuna quelle sono alibi alibi sono alibi o comunque il non sapere decifrare quello che è la la realtà che non la si decifra diciamo solamente con la mente razionale ma serve anche la mente intuitiva ed è lì che si si va oltre il fatto in sé per sé noi purtroppo nella società di oggi abbiamo perso quella capacità di sviluppare la mente intuitiva e perché tutte tutto ci ha portato a in una situazione dove l'essere umano deve essere controllato razionalizzato e tutto il resto infatti la medicina di oggi vede l'essere umano solamente dal punto di vista biochimico che esiste che c'è sicuramente ma è come vedere esclusivamente di un palazzo solo una facciata ma sono anche le altre facciate la parte energetica per esempio è fondamentale la parte spirituale è fondamentale è cresciuta in questi questi decenni la tecnologia la scienza ma la spiritualità è rimasta bloccata anzi è andata indietro probabilmente è andata indietro e quindi c'è uno squilibrio fortissimo da questo punto di vista e questo dà la possibilità possibilità ancora maggiori del controllo da parte del potere sulla gente perché eh si è bloccato diciamo una un percorso di crescita di consapevolezza consapevolezza vuol dire individuare dei propri pensieri interni non funzionali per la nostra crescita per la nostra vita per la nostra evoluzione controllare questi pensieri per superarli come diceva Melissa c'è la possibilità comunque anche di sovrascrivere certe certe su certi pensieri su certe memorie che abbiamo eh che abbiamo avuto passato un gatto è passato sopra la la tastiera non so e voleva scrivere anche lui vabbè e quindi di fronte una situazione di questo tipo è sempre più importante eh essere coscienti e consapevoli eh di di quello che sono un po' le cose e dal momento in cui si vuole portare la medicina a una spersonalizzazione totale quindi il controllo della salute del benessere delle persone addirittura attraverso la telemedicina dove a distanza si mettono dentro delle informazioni e ti danno risultato eh quindi vuol dire vedere l'essere umano solamente dal punto di vista biochimico e basta ma noi come dicevo prima siamo molto molto di più noi siamo esseri eh eccezionali come diceva il dottor Claudio Pagliara oncologo quarant'anni di esperienza nella medicina olistica nasciamo principi e ci fanno diventare rospi questa società ha completamente eh ci manipola una società completamente artificiale questa costruita a uso e consumo di chi deve gestire eh il potere quindi bisogna svegliarsi conoscere e e e fare un percorso di consapevolezza per riprendere il proprio potere personale perché noi possiamo la natura come dico spesso ci dà la possibilità di ammalarci ma ci ha dato un corpo e una mente che sono una potenza esagerata se sappiamo gestirlo nella maniera migliore e per gestire la maniera migliore bisogna conoscere la legge della natura rispettare la legge della natura e adeguarsi ad essa eh la natura ci offre di tutto per poter rimetterci in buona salute eh la questione essere coscienti e consapevoli non siamo eh vittime del caso della sfortuna perché tutto quello che ci capita ha un significato come infatti il dottor Francesco Oliviero anche lui con trentacinque anni di esperienza un medico che fa medicina integrata ha scritto vent'anni fa un libro Benattia che ha sconvolto tutti perché dice dicevano ma la malattia è malattia è una cosa negativa va combattuta no la malattia va capita perché sono i segnali che ci manda il corpo e la mente che stiamo sbagliando qualcosa e invece quello che si fa oggi si eh si spegne il sintomo con tutti i prodotti antibiotico adesso c'è un problema gigantesco a livello mondiale sull'antibiotico resistenza perché si è utilizzato in maniera sproporzionata e invece l'antibiotico è utilizzato in maniera mirata esclusivamente a determinati casi invece adesso per un nulla si prendere l'antibiotico anche in certi casi che non è indicato magari perché ormai il discorso del farmaco è entrato nel concetto comune è come se fosse una cosa normalissima ma non è vero i farmaci vanno utilizzati solamente in situazioni particolari di problemi acuti ormai andati fuori controllo perché in tutte le prime fasi la medicina naturale delle carte eccezionali da 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 giocare prego anche sì c'è una bellissima frase di giordano bruno quindi che è stato bruciato chiaramente perché sicuramente molto troppo avanti per per il periodo in cui è vissuto non è la materia che genera il pensiero ma il pensiero che genera la materia quindi già lo diceva lui quindi di fronte a questo era veramente molto 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 avanti da questo punto di vista quindi noi siamo convinti del contrario che è la materia che genera il pensiero invece è il contrario esattamente noi coi nostri pensieri creiamo oltre che la nostra realtà anche tutto quello che ci capita perché il pensiero è vibrazione ed è la vibrazione l'aspetto più importante di tutto quello che esiste ma quando diceva e dal principio era il verbo il verbo e la vibrazione e già da allora si sapeva e si conosceva cioè attraverso quelle parole come funzionava il tutto ma infatti già in maniera completamente intuitiva popoli primitivi comunque pensavano che tutto fosse animato infatti si parla di animismo perché in effetti già intuiva che ogni cosa che esiste ha una sua vibrazione e questo è un aspetto fondamentale cosa che adesso la scienza classica non prende neanche in considerazione quando invece popolazioni che ci hanno preceduto millenni fa avevano già intuito ma oggi la fisica quantistica ha spiegato ha spiegato tantissime cose ormai ormai se sull'essere umano il concetto quantistico non viene accettato perché andrebbe a scartinare delle delle potenze economiche che crollerebbero chiaramente tantissimi ospedali vengono utilizzate macchine quantistiche sia per le diagnosi sia anche per le cure per esempio però il macchinario sono una cosa l'approccio all'essere umano deve essere diverso deve essere sempre quello classico sintomo spegnere il sintomo quando sappiamo benissimo che quando quando il problema arriva all'aspetto di patologia evidente è l'ultimo l'ultimo stadio è la punta dell'iceberg e tutto quello che c'è sotto quindi gli altri piani su cui è fatto l'essere umano che si sviluppano le cause quindi bisogna andare a lavorare sulle cause se si vuole veramente risolvere il problema se no si continuerà di patologia in patologia di problema in problema perché se una causa non viene individuata non viene eliminata continuerà ad agire sul corpo e sulla mente dell'essere umano questo è per e quindi non fa altro che genera generare un mercato che poi in effetti molte entità all'interno del mercato non sono interessate che la gente guarisca è un flusso di soldi ecco questi ultimi due anni sono stati maestri in questo senso due anni e mezzo ormai quasi tre perché proprio hanno io dico sempre ci hanno costretto a fermarci e quindi molte persone hanno per quanto siano successe delle cose negative traumatiche nessuno nega questo però l'altro lato è che diverse persone fermandosi si sono rese conto che la vita che facevano non era la vita che volevano quindi il fatto di dover non sempre distrarsi con andare a lavorare gli impegni quotidiani uscire la sera andare in vacanza d'estate il fatto di essere costretti a stare a casa molte persone hanno rivisto la propria vita la propria vita per quanto riguardava il lavoro che magari non li rispecchiava più e quindi si sono presi il coraggio per un motivo o per l'altro di reinventarsi rimettersi in gioco anche magari a 45 50 55 anni si sono reinventate e magari mettendo in atto la passione che avevano da ragazzi da giovani e che poi avevano messo nel cassetto per i soliti motivi che non faceva guadagnare non era redditizia avevano famiglia da mantenere quindi questi due anni ci hanno veramente messo di fronte a al cambiamento perché tante cose sono cambiate e non non torneremo più come eh prima del covid quando diverse persone dicono eh quando è che torneremo alla normalità non sarà più così ma non deve essere più così perché il mondo che c'era prima eh non aveva più senso di esistere e eh se è successo quello che è successo è perché avevano un scopo evolutivo molto profondo e questo ha portato le persone proprio a in alcuni casi più strette a cambiare a cavalcare il cambiamento eh chiaramente anche lì poi bisogna anche dire che eh il cambiamento è la base della vita perché nulla rimane sempre uguale a se stesso la natura non rimane mai uguale a se stessa si alterna sempre stagione dopo stagione eh però è chiaro che bisogna anche essere un po' accompagnati nel cambiamento perché il cambiamento fatto eh come shock c'è il cambiamento repentino improvviso senza nessun diciamo minima preparazione eh può portare anche a qualcosa di negativo a farci ammalare in un altro senso quindi il cambiamento va eh fatto piano piano e eh perché non tutti siamo uguali c'è chi vive di cambiamenti e quindi se non cambia lavoro ogni anno adesso dico per assurdo eh non è soddisfatto eh c'è invece chi cambia lavoro dopo trent'anni con tutte le paure del mondo perché questi il cambiamento chiaramente soprattutto a livello lavorativo va a toccare i nostri tasti più profondi che sono il primo chakra quello della sopravvivenza quello di riuscire a mangiare va a toccare il discorso economico e ci abbiamo abbiamo delle ferite profondissime riguardo alla all'abbondanza della nostra vita all'aspetto economico che sono molto 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 radicate quindi anche lì eh noi diciamo il cambiamento è la base della vita quindi esserne consapevoli e capire che se abbiamo qualcosa che non va a livello fisico il nostro corpo ci sta dando un messaggio poi certo da lì a dire da domani eh cambiate città cambiate casa cambiate partner che hanno cambiate lavoro tutto insieme chiaramente no perché quello creerebbe uno shock che sarebbe ancora più cioè vi farebbe ammalare in un altro modo naturalmente è un cambiamento che va eh innanzitutto ehm capito eh presa va presa consapevolezza e poi ci si aiuta eh facendosi accompagnare quindi magari andando a capire cos'è eh che eh non va più nella vostra vita eh capire cos'è quel malessere di fondo che vi accompagna anche se magari eh avete un lavoro da tanti anni eh guadagnate bene avete una bella casa però magari sentite comunque questo senso di eh non benessere avete magari riflusso avete gastriti avete non digerite alcune cose eh oppure insomma il corpo ci parla sempre e eh bisogna imparare un po' codificarlo questo parlo dal disturbo più lieve al disturbo più serio chiaramente però ci manda dei messaggi spesso e volentieri che sono anche abbastanza eh chiari da 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 decodificare e se non riusciamo a codificarli ci si può far aiutare perché ci sono delle persone soprattutto in questi ultimi due anni che si sono messe al servizio prego Carlo perché comunque eh il cambiamento è una cosa fondamentale particolarmente eh in questi periodi quelli che abbiamo appena passati passato ma anche adesso ma eh perché infatti leggevo qui sulla chat come fare ah come fare eh perché sono seguenti delle difficoltà allora eh invito comunque a seguire una nostra diretta dell'autunno dell'anno scorso mi sembra col dottor Francesco Oliviero e col dottor Salvatore Totaro sul rientrare nel proprio potere personale questo è un aspetto fondamentale bisogna fare un percorso di riacquistare fiducia nelle proprie possibilità nelle proprie capacità perché noi se rientriamo nel nostro potere personale abbiamo una forza inaudita perché vuol dire che abbiamo del livello vibratorio elevato ci sono tutta una serie di cose che si possono fare sicuramente ma e quindi attireremo delle vibrazioni alte quindi situazioni positive per esempio c'è il fisico quantistico eh Marchesi Paolo Marchesi eh ha ideato il sistema energia gratitudine incondizionata anticipata al mattino per quattro cinque minuti eh appena ci si alza si dice grazie 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 col sorriso sulla bocca eh e in questa maniera si riesce ad alzare le vibrazioni e e attirare situazioni positive chiaramente bisogna farlo eh facendosi coinvolgere un po' dal grazie non con 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 un atteggiamento negativo e se avete un gatto spesso i gatti che percepiscono le vibrazioni più alte eh vi faranno capire che eh che la strada è giusta perché perché noi siamo vibrazione e se riusciamo a ad alzare le nostre vibrazioni sicuramente sicuramente eh possiamo cambiare sempre la nostra vita quasi sempre poi ci possono essere dei casi un po' particolari molto complicati però in genere è possibile cambia la nostra vita però chiaramente vuol dire rientrare il nostro potere personale e rientrare nella nostra forza interiore che è di fondamentale importanza e volevo leggere questo messaggio di Manuela Manna che dice sono ritornata lavoro in ospedale dopo tredici mesi di sospensione e sono sempre stanca quasi triste ho deciso di licenziarmi non è più la mia vita ecco l'ho letta perché è un esempio di come ehm sentiamo che c'è qualcosa che non va che eh il malessere aumenta il il corpo ce lo dice e quindi è chiaro che eh per Manuela non è facile eh cambiare sarà un percorso impegnativo magari dovrà farsi aiutare o magari no eh perché poi chiaramente ognuno è un caso a sé però ehm perché vivere male quando abbiamo l'opportunità di trovare qualcosa che è più confacente a quello che siamo noi ora che ci potrebbe dare più soddisfazione come diciamo sempre siamo stati anche abituati perché ce l'abbiamo proprio nella profondità sapete i soliti proverbi ehm si sa quello che lasci ma non si sa quello che trovi eh così meglio insomma meglio il vecchio rassicurante che il nuovo con tanti punti di domanda e tutte queste cose anche se noi diciamo no ma io quelle cose lì sì le ho sentite ma tanto non ci ci determinano ci fanno sempre frenare quando siamo lì lì perché diciamo e se trovo un posto peggiore e se poi va male e se e se però in questo modo eh non oltre a non realizzare quello che è il nostro talento non evolviamo rimaniamo lì bloccati mediamente insoddisfatti a fare una vita che non ci rappresenta più poi come qualcuno diceva ma comunque è abbastanza normale per Manuela rientrando in un posto di quel tipo lì la situazione psicologica le vibrazioni basse eh tutto il resto logicamente ci ritrova male perché infatti quando entriamo in un posto dove c'è tanta gente allegra noi siamo portati a essere allegri infatti esiste lo yoga della risata che pochi anni fa abbiamo fatto una decina di serate e ok e e chiaramente quando si vede persone che ridono eh siamo portati al buon umore sentiamo in un posto dove magari c'è c'è il defunto sono tutti tristi chiaramente abbassiamo le nostre vibrazioni e siamo tristi anche noi novantanove su cento è così che funzioniamo c'è poco da fare quindi è importante da questo punto di vista frequentare persone positive allegre persone che hanno le vibrazioni alte che vibra che persone che sono sempre tristi che hanno sempre qualche problema ma soprattutto persone anche che ci motivano che ci dicono vuoi cambiare lavoro eh fai bene cioè non cosa stai facendo guarda che c'è crisi madonna almeno tu che hai uno stipendio tenitelo stretto quante volte le frasi che sentiamo sono queste e ma certo lo fanno fin di bene eh non sto dicendo che lo fanno perché ci odiano perché però ci demotivano perché poi senti uno che ti dice così l'altro ti dice la stessa cosa dici ma forse sono io che sto esagerando sono fuori di testa è meglio che torno nel mio nella mia zona dove resto lì anche se non so perché noi siamo molto suscettibili comunque eh dall'ambiente che frequentiamo da quello che ci dicono e particolarmente nel campo nel campo della salute perché infatti c'era un medico che diceva a marzo del 2020 e l'ospedale qua di Bergamo eh entrava gente che eh anziani erano a maggior parte che non stavano non stavano non stavano molto bene avevano una certa cartella clinica controllabile appena gli facevano eh il tampone e verificavano che era positivo c'era un crollo delle condizioni del paziente e andava eh in rianimazione intubate e tutto il resto l'emozione il sapere di essere positivo in quella situazione psicologica eh collettiva faceva crollare completamente cartella clinica e poi molti morivano eh nel gioco di poco tempo quindi come influenza tantissimo il pensiero le nostre convinzioni sono quelle che ci determinano il nostro benessere la nostra malattia perché infatti poi volevo dire qualcosa sulle rimissioni spontanee però mi sa che sta facendo tardi eh una no una bella cosa eh una bella cosa una cosa interessante da dire perché questo si collega anche al fatto di circondarci di persone che eh hanno una vibrazione elevata che ci motivano che ci vogliono bene che ci sostengono ehm l'epigenetica con Bruce Lipton che è un altro libro che se qualcuno vuole è molto interessante eh si chiama eh Carlo ti ricordi il titolo Bruce Lipton epigenetica è proprio no la biologia delle credenze ah ecco la biologia delle credenze non mi ricordavo più eh Lipton addirittura ci dimostra addirittura una cosa scontata la nostra società si basa sulla competizione da sempre ehm e quindi non ci può essere cooperazione invece Lipton ci dimostra che come Darwin avesse torto la competizione non è la base dell'evoluzione non è la sopravvivenza del più forte che ci permette di sopravvivere e prosperare al contrario eh è la cooperazione e la comunità che permettono la sopravvivenza immaginatevi se ciascuna del ciascuni dei vostri trilioni di cellule eh decidesse di farcela da sé di combattere per essere la regina del la più forte piuttosto che cooperare con le altre cellule cosa succederebbe nel giro di poco quanto riusciremmo a sopravvivere quindi mh è la cooperazione che permette la vita quindi anche questa cultura nostra sempre che è giunta all'apice in negativo la parte del consumismo del materialismo ma anche della competizione morte tua vita mia dell'essere eh sempre uno contro l'altro invece di sostenersi e di sentirsi accolti anche quando si è in un momento di difficoltà quando si è eh si ha bisogno quando si è nel cambiamento si ha bisogno certamente di avere attorno persone che ci sostengono non che ci demotivano e ci spengono e questo purtroppo un po' manca in questa condizione eh ecco perché tante volte stiamo siamo mediamente infelici ma restiamo lì dove siamo perché la paura del cambiamento la paura di non essere approvati la paura di deludere gli altri la paura siamo pieni di paure eh ci blocca in una situazione dove che non ci fa stare bene che ovviamente non il nostro corpo manifesterà questo disagio sì purtroppo viviamo eh in un mondo e situazioni dove eh c'è da fare sempre tante cose si è sempre presi eh inseguendo il tempo non siamo più padroni del nostro tempo ma siamo vittime del tempo e questo è un aspetto fortemente negativo perché ci fa perdere la visione di quello che abbiamo intorno di chi siamo poi fondamentalmente si corre si corre si corre e questo aumenta lo stress lo stress abbassa le difese immunitarie è tutto un circolo vizioso che non ci porta a situazioni positive oggi camminiamo senza sentire neanche i nostri piedi e senza osservare ciò che ci circonda senza renderci conto di ciò che stiamo vivendo dentro di noi senza farci toccare dalle sensazioni fisiche che stiamo vivendo e dalle emozioni che stiamo attraversando quindi viviamo eh distaccati dalla dalle nostre percezioni poi più profonde da quello che abbiamo attorno abbiamo dei dei sistemi dei metodi comunque che si possono utilizzare la respirazione profonda per esempio perché uno degli aspetti che si evidenzia oggi che si respira male perché sotto stress sicuramente non si ha una respirazione profonda ma si ha una respirazione superficiale e quindi un'ossigenazione parziale di tutto il corpo e questo non va bene quindi fare gli esercizi respiratori eh addominali come l'anno scorso la dottoressa Annalita Iannetti specialista in neuroscienze ci ha insegnato eh in una videoconferenza la meditazione per esempio che non è una tecnica magica che fa scomparire tutte le cose spiacevoli che ci circonda ci circondano bensì è un metodo fra i tanti che ci aiuta a ritrovare il nostro respiro e la nostra centratura per esempio eh e imparare a liberarsi dall'abitudine di analizzare gli eventi e classificarli come buoni o cattivi per esempio come positivi o come negativi come belli o brutti ci insegna dunque a rimanere aperti e disponibile in ciò che è fondamentalmente senza continuare a giudicare con che cosa abbiamo intorno queste queste sono un paio di cose diciamo che volevo dire importanti eh che ci possono aiutare a a ricentrarci e questo a maggior ragione deve essere la nostra deve essere il nostro obiettivo perché viviamo in un mondo sostanzialmente malato e che quindi influenza come dice l'epigenetica di Bruce Lipton influenza negativamente l'essere umano quindi dobbiamo tutelarci eh facendo tutta sviluppando tutta una serie di di cose possiamo farle eh o ci si fa aiutare chiaramente eh da chi ci può dare una mano dicevo prima che ci sono scritto anche in chat che a parte che ci sono degli ottimi terapeuti che possono accompagnare questo questo processo di cambiamento anche di paure che abbiamo che abbiamo bene o male tutti in quanto esseri umani ci sono ottimi terapeuti ci sono per esempio uno strumento che può essere molto valido per alcuni sono le costellazioni familiari che aiutano a superare dei blocchi anche che magari riguardano eh i nostri avi alcune volte i nostri traumi non sono neanche nostri ma risalgono alle nostre ai nostri parenti no ai nostri genitori nonni eccetera ci sono tanti strumenti che possono essere ci sono dei motivatori degli ottimi delle persone che proprio aiutano sostengono le persone counselor si chiamano eh naturopati anche possiamo fare magari una diretta zoom eh a gennaio nella seconda metà per rientrare nel proprio potere personale e dare delle indicazioni più specifiche in questa direzione facendoci aiutare magari da qualcuno ecco poi per dire anche la 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 recitazione di mantra il mantra è sono delle frequentemente delle frasi ripetite ripetute che vengono ripetute eh quotidianamente chiaramente però eh anche lì bisogna avere la convinzione quando si dicono non recitarle così un po' pappagallo tanto per fare il compitino quotidiano ma delle delle dei pensieri eh potenzianti a seconda del bisogno che abbiamo eh che ci aiutano a riscrivere la nostra convinzione che è limitata ehm ah sì ha messo Bruce Lipton l'ha messo in chat Antonio la la biologia delle credenze esatto eh ah in inglese però è un po' dura eh io ce l'ho in italiano perché in inglese non sarei in grado di leggerlo un po' un po' più complesso comunque grazie ehm concluderei con la poesia di vuoi chiudere volevo parlare delle remissioni spontanee ah sì vai vai sì due parole velocissimo perché questo qui è uno studio fatto dalla dottoressa Turner eh che ha fatto un dottorato anni fa perché uno studio fatto un po' di anni fa ad Harvard eh all'università di Berkeley eh e l'ha fatto su tre mila e cinquecento casi di remissioni spontanee cosa che il medicino ufficiale non tiene conto perché eh se no vorrebbe dire o avere sbagliato la diagnosi o essere di fronte a un qualcosa che non si riesce a decifrare con il loro approccio l'ha fatto con su tre mila e cinquecento casi eh fatti in giro in giro in giro per il mondo e queste qui lei le chiama remissioni inattese o spontanee dalle malattie gravi in pratica e molto comunque su sul tumore e che queste remissioni ha scoperto che non erano incidenti e il filo conduttore di tutte queste storie di questi pazienti era una serie di sei comportamenti che hanno portato alla regressione delle volte anche totale di malattie molto gravi erano sei i punti in pratica su cui queste persone davano la motivazione della loro guarigione che hanno cambiato la loro dieta e quindi eliminando carne che pro pro crescita diciamo favorisce i tumori come i latticini per esempio sono un fattore di crescita importante lo zucchero eh i cereali raffinati perché acidificano chiaramente crea un terreno favorevole alle 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 cellule cancerogene infatti questo apre una piccola parentesi e Otto Warburg nel 1931 ha preso un premio Nobel proprio sul l'avere individuato le cause primarie del cancro che sono un terreno ipostico con poco ossigeno e molto acido e le cellule cancerogene vivono molto bene in quel terreno le cellule normali invece no fanno fatica le cellule cancerogene hanno bisogno di poco ossigeno è un terreno molto acidificato e spesso questo nella vita ordinaria con l'alimentazione che molta gente ha e con la sedentarietà tendono facilmente a creare un terreno di questo tipo poi certi sono persone più portate persone meno portate allo fatto di sviluppare i tumori perché poi ci hanno anche altre cause chiaramente poi l'altro l'altro aspetto eh persone che hanno approfondito la loro spiritualità e quindi eh molte persone hanno affermato di sentire una sensazione interna di divino energia d'amore e di natura spirituale il terzo eh e che hanno provato amore gioia e felicità che hanno eh accreditato la loro cura e il loro e la loro guarigione a questi aspetti qua eh gli studi infatti dimostrano che le persone felici hanno un rischio inferiore del santa sette per cento perché di avere malattie cardiache rispetto ai pessimisti eh infatti infatti quando si trova di fronte a una malattia se si ha un atteggiamento pessimistico nel senso che ci si trova vittime di una sfortuna del caso e tutto il resto quindi eh si perde il controllo della gestione di sé questo vuol dire comunque anche questo è scientificamente dimostrato che noi collopiamo con le nostre cellule se noi mandiamo messaggi negativi le nostre cellule avranno daranno dei risultati negativi eh ma lo stesso quando una persona per esempio arriva a una certa età e comincia e ha perso tantissimo le proprie possibilità caratteristiche si comincia a spegnere piano piano comincia a muoversi sempre di meno dormire sempre di più in quel momento lì sta mandando un chiaro messaggio alle proprie cellule di andare in apoptosi di andare all'eliminazione piano piano e quello vuol dire lo spegnimento della della persona ma anche a livello energetico vibrazionale chiaramente sono due cose che vanno avanti parallelamente quindi il terzo punto è che vivono in una situazione di felicità il quarto che hanno sfogato hanno eliminato tutte quelle emozioni represse che ci sono nel conscio ma anche nell'inconscio eh eliminando quindi paura rabbia dolore e risentimento tutte queste emozioni represse dice che l'hanno aiutato tanto a guarire il quinto punto eh perché hanno preso erbe integratori vitamine e quindi prodotti di quel tipo lì che hanno aiutato la naturale autoriparazione del corpo attraverso attraverso anche un effetto placebo effetto placebo che molti dicono è così suggestione invece no ci sono degli studi fatti dagli scienziati da un team di scienziati eh dell'Harvard medical school che parla ha individuato diciamo dopo il genoma c'è anche il place genoma che infatti hanno dimostrato che questo place genoma entrando in funzione eh in azione in almeno entra in azione in almeno trenta per cento delle persone che il risultato positivo del placebo per esempio ma c'è un meccanismo che stanno studiando bene anche proprio a livello biochimico stanno hanno individuato quali sono i meccanismi che entrano in gioco in azione appunto che un prodotto che non contiene nulla in pratica ha delle degli effetti positivi e quindi parlano di un trenta per cento comunque sono studi che sono in corso questi qua poi il sesto punto hanno utilizzato l'intuizione per prendere decisioni di trattamento quindi questo cosa vuol dire la coscienza e la sicurezza di sé che stanno facendo e hanno imboccato la strada giusta e corretta per la per la per la per la guarigione quindi cosa accomuna tutti questi sei punti la fiducia la fiducia che è quello che sta facendo e la strada giusta e la coscienza e la consapevolezza di avere in mano le chiavi del proprio benessere e non essere soggetti passivi nelle mani eh di qualcuno a cui hanno delegato la propria salute e comunque queste per tutte queste persone queste tre mila e cinquecento persone sono state seguite da terapeuti e non dalla medicina ufficiale quindi hanno scelto un percorso alternativo e sono guarite diciamo da malattie molto gravi anche terminali quindi ci sono dei percorsi comunque eh che si possono intraprendere perché noi abbiamo delle potenzialità eccezionali ma dobbiamo rientrare nel nostro potere personale dobbiamo rientrare nella nostra energia energia vitale nel fatto di essere coscienti che noi possiamo orientare la nostra vita sia a livello di benessere ma sia anche a livello di soddisfazioni ma a livello di di vita in generale noi possiamo essere il quadrone della nostra vita ne abbiamo tutte le possibilità e tutte le carte da giocare io concluderei eh con questa poesia che per me è molto significativa eh per ricordarci appunto la nostra quanto siamo la nostra scintilla divina che siamo esseri divini e che abbiamo un enorme potere che hanno tentato in tutti i modi di toglierci la nostra paura più grande questa potreste la trovate su internet è intitolata la nostra paura più grande io vi consiglierei di stamparvela di appenderla in bagno o di recitarla tutti i giorni perché è veramente bella l'avrete sentita la nostra paura più profonda non è di essere inadeguati la nostra paura più profonda e di essere potenti oltre ogni limite è la nostra luce non la nostra ombra spaventarci di più ci domandiamo chi sono io per essere brillante pieno di talento favoloso in realtà chi sei tu per non esserlo siamo figli di dio il nostro giocare in piccolo non serve al mondo non c'è nulla di illuminato nello sminuire si stessi così che gli altri non si sentano insicuri intorno a noi siamo tutti nati per risplendere come fanno i bambini siamo nati per rendere manifesta la gloria di dio che è dentro di noi non solo in alcuni di noi è in ognuno di noi e quando permettiamo la nostra luce di risplendere inconsapevolmente diamo agli altri la possibilità di fare lo stesso e quando ci liberiamo dalle nostre paure la nostra presenza automaticamente libera gli altri bellissima questa poesia chiudiamo in bellezza molto molto motivante si era parte di un discorso di Nelson Mandela ma lui non era sua questa poesia ma era di Marianne Williamson che è una poetessa inglese credo e grazie a voi grazie grazie e ci vediamo il prossimo martedì prossimo martedì per farci gli auguri anche di buone feste perché grazie a tutti voi grazie per la partecipazione per tutti quelli che ci seguono già da da tante tante puntate diciamo in questo nostro salotto del martedì sera grazie a tutti e alla prossima ciao ciao grazie grazie buonanotte grazie ciao ciao ciao